buongiorno amici allora sto in avruzzo sto all'uscita all'area di servizio della pescara nord stamattina sto partito presto adesso sto a fare una pausetta e poi continuo oggi giornata tosta adesso vado a sulmona e poi a vezzano e niente questa è una piccola anteprima per la giornata di oggi visto che nel weekend sono stato un po fermo a riposo oggi vestuzzi con l'appetito costante prima spero stasera di riusci a fare la premiere e dipende tutto ancora rientro e se riesco a fare in tempo dai ci aggiorniamo strada facendo ciao